Ciao ragazzi, allora oggi voglio fare uno scherzo a Dalila, il procione, voglio farle vedere Two Girls One Cup Probabilmente molti di voi sanno già di che cosa sto parlando, per chi invece non lo conoscesse siete stati molto fortunati Beh non guardatelo, fidatevi di me Quindi ora la chiamo perché lei non sa in realtà quello che sta per guardare Troppo curioso, cioè più che altro io vomiterò però, quello è un altro discorso Allora, ci sei? Che dobbiamo registrare? Un attimo Madonna ogni volta due ore, devo far vedere un video meraviglioso Quella è la mia serie Per forza, sei nana, hai bisogno dei cuscini Ecco facciamo vedere che stai mettendo i cuscini Questi cuscini sono di cacca Per forza, sei di sopra, scorreggi Ciao a tutti ragazzuoli Ciao a tutti ragazzuoli Io sono Fancy, guardate un po' chi vi ho riportato Il procione Bye bye È tutto troppo triste comunque ogni volta Allora oggi ho intenzione di far vedere un video al procione Meraviglioso, te lo dico subito Lei è ignara di tutto Ma visto che so che ti piacciono un sacco i gattini Ho detto boh, questo è il video che fa per lei Quindi sei pronta? Mi raccomando Sento odore di fregatura Non ti preoccupare, è odore di cacca Allora ti dico come si chiama il video Perché così almeno hai un'idea più chiara Two cats, one cup Tu sai l'inglese quindi cos'è che vuol dire? Due gatti Ehm Un bicchiere Più o meno, sì dai Quindi vai tranquilla che È tutto a posto Allora mettiti intanto Perché stiamo giocando a Shanghai Che è? Perfetto ragazzi Ed eccoci qua Come vedi Non vedi nulla Perché voglio proprio lasciarti la sorpresa Stai muovendo Quando sei pronta Dammi il via Che iniziamo la bomba Che sono curioso di guardare i gattini E si inizia Ma È tutto normale Vai tranquilla Porca vacca Che ne pensi? È incredibile Allora Porca vacca Devi guardarlo Allora che pensi? È un orientamento Vole a morire Ferma Non ero pronto A guardarlo Sto piangendo Allora che ne pensi Di questi gatti È molto bello Sto piangendo Porca vacca La resistenza Di un passerotto morto Non sembra che tu abbia reazione È un po' strano Sono malata Scusa ma Stai guardando anche tu? Sì Ferma un attimo che vomito Scusa Non riesco a parlare Neanche una reazione minima Ok c'è qualcosa che non va Oh io sono troppo strano Io in realtà ho fame Dovete parlare Come lo assapora Ma basta Ave regolati per ogni cosa Boh Ma tu immagini le persone che ti sentono da sopra Io lo so Ma tu immagini le persone che ti sentono Ma povero Sto piangendo Ma basta Tu devi guardare Non devi asciugarmi le lacrime Ma io guardo Ma sta piangendo Adesso lo riguardiamo Devo riuscire A diventare forte Ma che palle No Massima concentrazione Mi raccomando Guarda bene tutte quante le scene Come avvengono Ok Sto imparando a memoria Sto vedendo Ma allora sembra gelato Come esce E' uguale Ecco Vedi la cos'è Vedi la come gelato Porco E' terribile Ragazzi Io non credo che sia No male Questa situazione La assapora Chissà quante malattie Non riuscirò mai a resistere E' impossibile Ma quanto dura un minuto Quanta è Dura pochissimo E' impossibile Come fai Vada che io non sto scherzando E' terribile Ma se non ti vedo Che piangi Madonna la mia E' uno spettacolo Che bacino hai Basta respira Respira Ma che respira Così Volevo farti uno scherzo Farti vedere sto video Al posto dei gattini Dovevi essere tu A avere i connati Non io Devo cercare almeno Dieci secondi Di non avere un connato Dai Ti prego Devo farcela Questa parte L'ho vista Quindi Dieci secondi Allora fin qua Non è neanche troppo E' qua che inizia Mi dici come fai No a parte di scherzo E' te lo ce la faccio E' impossibile Ma perché devi star male Perché devo affrontare La paura Di queste cose E' 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 Ho mal di gola ormai Praticamente Dai guardiamo altrove Stai un minimo abituando Ma che abitu Fai abituarti Sei veramente Anormale La mente si abitua Ragazzi per favore Rispondetele Perché Se no le insulto Che cavolo ti devi abituare Ma l'hai visto? Sono dei medici Che quando operano la prima volta Sboccano Poi però Non sboccano più Questo va oltre C'è una che le caga in gola Cosa vuoi Ma i medici vedono di peggio Ma vai a spruzzare le feci in giro Non pensare che faccia Certo Penso ai Ai canditi Abituati a vedere l'immagine Certo E poi non ti farà schifo più nulla Capisco Ragazzi comunque questa roba è allucinante Se ci pensate queste persone non stanno bene Poi magari c'è qualcuno che lo fa Ma che Niente Avevo solo mal di gola Respira Sto respirando appena i polmoni Dio santo Ma da queste persone dovrebbero essere arrestate malissimo Comunque Con una violenza È legale Ma che è legale Si pensa solo a quante malattie si sono prese Porca vacca ce lo stavo facendo Hai visto? Basta così Ripeto Doveva andare diversamente Speravo che lei si impressionasse un minimo Dio santo sei una macchina Ma ce l'hai uno stomaco Un cuore O sei fatta d'acciaio inox Non rispondere che non lo voglio sapere Quindi ragazzi Contenuti meravigliosi comunque ultimamente Fatemi sapere la vostra Ripeto Non guardate Non guardatelo in caso non conoscesse questo Tanto non mi starà cagando nessuno Saranno già andati tutti a guardarlo Invece per chi conoscesse già questo video Sapete perché ho avuto tutti sti conati È un po' strano che non le abbia avuto lei però Quindi Spero che non mi insultiate troppo per questo video Datemelo per buono Comunque A parte questo Direi di andare a salutare anche oggi Gianfranco Baldracco Ma non è così Giuro Baldracco No È Gianfranco il Baldracco Ma posso dire Non è anche fare il Baldracco È l'ignette più bello della vita Death Girl Aspetta No che se no finisco come loro Mi cago addosso Reis Visculli Reis Visculli Scusa è l'incantesimo E Federica Baccio Ma porca non è possibile Non riesci mai Ciao ragazzi E il vincitore di oggi è Death Girl Ma è tutto bene Grandissima Devo fare i gesti Se no non riesci E Continua tu Porca vacca Aiuta Vi ricordo che in descrizione Troverete anche tutti i link Dei miei social Instagram Facebook E quindi Se ne va Un po' più di enfasi Ma non so neanche se è giusto Se volete mi insiste Che mi lasciate un bel mi piace Alla prossima di Facebook Iscrivete al canale per supportarmi E ragazzi Vi do appuntanti Noi Vi diamo l'appuntamento Ad un prossimo episodio Non su questo Ma è più basta Non lo voglio mai più guardare Ciao ragazzi Ciao ragazzi Scusate Che immagine brutta Ti devi appendere Perché Scusate Ma io stavo parlando Ma che cavolo fai Ora puoi chiudere Ciao Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi